Ciao a tutti ragazzi, io sono Matasi E benvenuti in questo nuovo episodio, ok Con la piccola pausa perché stavo controllando se il microfono era gesto o no Perché sennò che si, tipo, va poco di brutto Comunque, in questo episodio comunque non stiamo giocando a Tom's Cup Siamo giocando a Survival Craft Ho recuperato un po' di patate, come vedete sta crescendo la nostra bella piantagione Qui abbiamo messo i due chest in live E sono andato a raccogliere un bel albero gigante Ho preso quell'albero gigante A4 però che stava di qui Quindi tipo, non dovreste vederlo più Era tipo da questa parte, vabbè Comunque, ho recuperato quell'albero Perché mi serviva un bel po' di legno Quindi adesso dovrei avere un po' di legno E cosa ho fatto mentre non registravo? Ho messo queste chest, queste fornaci, ops In questo modo Così da avere tutto in un modo abbastanza figo Solo che questo che dovrebbe essere in teoria un Diciamo un lavandino non mi piace Quindi lo leviamo anche se è un hopper Cioè dovrebbe essere un lavandino però non lo è Quindi direi che possiamo fare un calderone e metterci dell'acqua dentro Così da risolvere il problema Abbiamo un secchio, abbiamo un po' di lingotti Facciamo un calderone che si fa in questo modo Benissimo Odio davvero questa cosa che ogni minimo click Ti divide gli stack Però per il resto è una buona cosa Ok mettiamoci questo qui E sembra proprio una cucina ragazzi Cioè ne diamoci conto È figa Poi qui invece ci sarà la sala Semplice diciamo Qua penso di metterci un divanetto Se riuscirò oppure tipo Soltanto qualcosa Vedremo E qui ho messo con dei vasi Fatti di Di Non ricordo comunque Di grey Cotta insomma Ho fatto questi vasetti Con cui ho messo dei sapling Giusto per creare l'atmosfera Qui stavo un attimo Pensando come fare il letto Ho fatto questi slab No questi non sono slab Sono dei normali cubi Di legna Quella più scura Che fa contorno a quella più chiara Che della casa E qui dei legna Della giungla insomma E sembra davvero molto carino Voglio vedere se Posso metterci qualcosa sopra Quindi direi di chiudere qui dentro Lasciare quel colonino lì Andare a fare la nanna Finalmente Un nuovo letto In una nuova casa Sì Dovremmo Andare un po' in avanza scoperta In quanto ci serve La bandiera finita Perché L'avete fatto costruire una bandiera Però C'è solo il pezzo dell'Italia Ma manca quella verde Insomma Un po' giuditi Abbiamo un po' di progetti Che ci avete Mi avete scritto Durante live Abbiamo da fare Una torre dell'orologio Un tempio Un villaggio Un fantion Un pantheon No no Non è il fantion Quello di lol Un museo Un ipermercato con i villager Questa è una buona idea Che però Penso di fare in futuro Poi abbiamo un aereo Che Sì Penso sia un aereo Ok Questo Forse ho già Ben compreso per fare E comunque ci sono Tanti altri Pensieri Che avete dato Ma finiremo prima la torre E poi Metteremo tutti i pensieri Tanto possiamo Possiamo anche girare E mettere altri cartelli Io direi che potremmo iniziare Con Un Con il villaggio Che alla fin fine È quello che stiamo facendo E quindi Prima di iniziare un villaggio Direi che possiamo farci una piccola Vi faccio vedere una piccola Piccolo tour della casa Allora questa casa È fatta in un modo Abbastanza strano In quanto Questa parte È una parte Normale In cui ci saranno Soltanto Delle ceste Ma non penso nemmeno Ci saranno Delle crafting table Un po' in giro Con altra roba Un po' utile Diciamo O comunque Lascerò vuoto Qui C'è Diciamo L'ascensore Che alla fine Non è proprio ascensore Qui la stanza da letto Che arrederemo molto presto Sogiorno Comunque giù di lì E la sala fornati Diciamo Cucina Se proprio Volevamo intenderlo Di qui Ci potranno Essere due salite Diciamo Due Salite Una discesa Diciamo Da questa parte Ci sarà il tetto Che per adesso È stato diviso In queste Quattro parti Oppure sono cinque Sì Come in casa Insomma E Perché Qui sarà Il nostro Diciamo Prendisole Anche se In teoria Non c'è sole Vabbè Queste altre parti Appena Riusciremo a farci O della sandstone Oppure Sicuramente Quello che vorrei fare È prendermi un po' Di quella Di quella neve Usare la neve Al posto di questi blocchi Di legno Che così almeno Leviamo tutta la Legnosità Di questa casa Poi salendo Tramite questa cosa Possiamo salire Alla torre di avvistamento Che risulterà Come vedete Con questi blocchi Un po' più alti Per dare un po' Di colore Che risulterà Il nostro Torre di avvistamento Per vedere Proprio i mob Comunque Possiamo anche Edsciuttare la gente Lì c'è un buco Molto faigo Che andremo A vedere più avanti Comunque Scendendo Cora di più Questa È la porta Discesa Ho fatto una piccola stanza E questa sarà la stanza Del chest Ho già un'idea Per il design Della stanza Del chest Che in teoria Sarà Formata Da dei blocchi In discesa Di lava Alternati Da quella Di acqua Ma voglio prima Capire come fare Volevo anche vedere Se la cosa è simmetrica Oppure no Perché sennò Fa una cagata Non ho scelto ancora i blocchi Quindi se avete dei consigli Scrivetemelo qui sotto Nei commenti E Se avete consigli Scrivetemelo più Sotto i commenti Che nei live Perché nei live Non posso Scriverli tutti Quindi invece qui Posso prendere Degli appunti Quindi in teoria Meglio qui Ah ecco Questi erano i mattoni Ecco Non mi ricordavo bene Allora Oggi cosa faremo Aggiusteremo Quella piccola stanza Che è la nostra Stanza Principale Insomma Io direi Che potremmo Fare anche qualcosa A me se usare Questa A me se usare Il legno Potremmo anche usare Dei mattoni Non lo so Non Non ho idea Per adesso Comunque Direi che va abbastanza bene Per il tempio Che sarà abbastanza probabile Lo faremo lì Userò Del quarzo Visto che l'hanno aggiunto Quindi adesso andremo anche nel nether E Il villaggio Villaggio Ok stavamo dicendo Dobbiamo fare un villaggio Io direi che lo facciamo Facciamo Ehm Diciamo Un piccolo Una piccola casetta Fatta di questa legna Ehm Della Della giungla Così un po' più Per variare Insieme a Della cobblestone Quindi proviamo A farla in questo modo Facciamo così Non tanto grande Perché Alla fine Non è che Mi serva Tutta questa grandezza Tipo una cosa Abbastanza semplice Questo tipo Ok Poi ci faccio per esempio Della cobblestone Qui Proprio una casetta Proprio di un villager Una cosa del genere Ok E forse è un po' Troppo piccolina Troppo piccina Ah vabbè però In effetti potremmo Fare Come ho visto da Da anni Potremmo mettere Le c'è sotto In effetti potrebbe Potrebbe essere Un'ottima idea Sì potremmo fare Una cosa del genere Allora Facciamo quindi Così Ehm Così Ok Ehm Qui due E metteremo tre Facciamo in questo modo Ho recuperato un bel po' Di cobblestone scavando Quindi Mi sembra anche Un'ottima cosa Ehm Facciamoci una crafting table Giusto per il momento Tanto comunque Ne dovremmo fare un bel po' Mettiamola qui tipo Ok Così potremmo Anche farci delle scale Benissimo Abbiamo delle scale Facciamo in questo modo Uno Due Tre Ok Uno Mi sembra che serviranno Un bel po' Ok Benissimo Ventiquattro Sono abbastanza Good Se riusciamo a saltare Precisamente Oi C'è un piccolo a scala Benissimo Quindi facciamo in questo modo Ma come se mi piace troppo Di questa texture La texture la metterò In descrizione Come avete chiesto Visto che Molti me la chiedono Quindi lo farò Ok Vediamo se Riusciamo a fare in questo modo Pure Qualcosa Potremmo farne anche due In teoria Ok good Quindi Mettiamoci un blocco di cobblestone Questa La salita Bene Queste scale possono essere unite In questo modo Come faremo anche qui sotto No Vediamo se riusciamo a fare in questo modo Ok good Quindi Facciamo in questo modo Bene In questo modo In questo Ok Vediamo Benissimo No Non è così Oh benissimo E sopra ci mettiamo Un blocco Oppure Una slab Io direi che la slab si Non è tanto i falchi Mettiamoci una torcia su E vediamo come è uscita E beh Un po' troppo Meccanica qui No Cioè Non mi piace tanto il fatto che Tipo qui ci sono troppe parti Di cobblestone Quindi forse la faremo In stone O in stone Oppure in In stone quadrato Insomma Comunque sempre stone Infatti Mi sembra giusto Quindi Direi che mettiamo a cuocere un po' Di questa Cobblestone Ecco Si spaccate il piccone Abbiamo comunque un piccone in diamante Che Sto decidendo di non usare Perché voglio prima inciantarmelo Però bisogna di tanti tanti libri Quindi Una delle cose da fare prima È anche una farm Perché Quella Mi servirà davvero tantissimo Quindi mettiamo un po' Di questa roba qui E Che dire ragazzi Allora Aspettiamo un attimo Dovremmo averne un po' Mi sa da qualche parte O l'abbiamo usata tutta No Mi sa che l'abbiamo usata tutta Abbiamo dei lastre Dei mattoni Ma Le lastre soltanto Come cibo Siamo messi abbastanza bene Questi grano Però Questo grano Non dovrebbe stare qui Nemmeno questi semi Perché abbiamo una nostra bella farm Quindi questa farm così Messa a random Così a random Molto random Tanto random insomma Che È abbastanza carina Devo dire Però forse può essere ancora migliorata Potremmo farla automatizzata Appena Avremo un po' di tempo Appena avrò capito Se è cambiata del tutto La resto Oppure Giusto un po' E posso riuscire A fare tutto Ok Benissimo Facciamo così Bene Ok Ottimamente ottimo Mettiamoci anche Dei semini qui Anche tanto Ne ho fatte un po' Sto cuocendo Quindi Avremo cazzeggiato In ogni caso Sei Vive il cazzeggio Yeee Non abbiamo ancora usato Delle carote Ma presto Lo faremo Le metteremo tutte qui Nell'ultimo slot disponibile Insomma Ok Quindi mettiamoci No Queste vanno Le patate Ne ho cotte Giusto un po' Ma Non sono tantissime Cosa brutta Di Minecraft Vanilla Che non posso Aggiustare automaticamente L'inventario Quindi dovrò fare tutto a mano Che brutta cosa Sì sì Ok Potremmo anche dividere In teoria Questa Questa coble Sono stato un po' idiota Non farlo Perché così almeno Abbiamo più roba Ok Dieci Non ce la facciamo Abbiamo bisogno di un altro Due Di un altri due Cioè Italiano Portami via Benissimo Ok Dove abbiamo Una crafting table Vabbè dovremmo averla dentro Ma comunque dovrebbe essere qui Comunque ragazzi Io metto un po' A cuocere Un po' di stone E ci vediamo E ci vediamo fra poco Anzi Mettiamo giusto Questa roba Qui Queste parti Ok Questa coble Sto qui È dentro Comunque È fatta abbastanza bene Devo dire Niente male Niente male Quindi ragazzi Ci vediamo fra 5 minuti A dopo Ok ragazzi Eccomi Allora ho fatto un po' Di questi altri Mattoni Vediamo se 36 Bastano Ho levato tutto lì Anche la crafting table Tanto comunque Mi non mi ero ricordato Che tipo potevo In ogni caso Usarlo anche Dal mio inventario Perché comunque È a 4 Benissimo Ok Facciamo una cosa del genere Bene Oh Bene Lì bisogna metterci Vabbè Un po' inutile In teoria Ma Non lo so ragazzi Non mi piace tanto Il fatto che sia Tre lì Che non Non abbia molto senso Decideremo comunque Non metterci giusto Un po' di Di specchi Non di vetri Ok Questo modo Bene Qui Non va bene Però potremmo farci Oh ragazzi Non ho avuto un'idea Crafts in tempo La mano O al piede Dipende Mettiamola qui questa Facciamo in questo modo Facciamo Bene Andrò su 4 lati Facciamo Oh Aspettate Devo riuscire a metterla Niente Vabbè Vabbè Così non è male Così non è male comunque No Eh però facciamo uguale Tutte le parti Tipo Mai detto Scalino Ok Uno E due Sì sì Mi piace Mi piace Mi piace Quindi qua Potremmo metterci Del vetro Vediamo se ce ne abbiamo Abbastanza Dovremmo averne 10 Quindi No 4 ce ne abbiamo Abbiamo questi pannelli Ok Siamo i pannelli a sto punto Perché tanto Sono 8 Ce la facciamo Ok Non mi piace tanto La texture Del vetro Forse Sì c'è connected texture Ma non Non mi emoziona Più di che Devo dire Potremmo fare una cosa del genere E mettere una porta lì Vediamo se riusciamo a farci Una porta di No di ferro No Di legno Sì Va benissimo Abbiamo del legno Sì Benissimo Ok Porta di legno Ciao fiore Bene Mi sa che è un po' inutile Qui però va bene Ok Quindi porta E beh sì dai Almeno da Un senso di Ok Ora va meglio Sì Sì Vuol dire che Mi piace abbastanza Giusto per avere Un po' di luce Ci mettiamo 4 torce Così In questo modo E allora qui Dobbiamo fare In questo modo Benissimo Dobbiamo prenderci Un po' di legna Perché ne abbiamo finita Sì Dobbiamo avere uno stack Ancora qua Qua dentro Vediamo Vediamo Non sotto Ma sopra Benissimo Facciamo quindi 8 chest Bene Anche se dovremmo averne Qualcuna anche qui dentro Sì ne abbiamo Stanto una Vabbè La useremo comunque Eh sì devo dire che È abbastanza carino Come cosa E quindi Dovremmo fare così Ehm Bene Non mi ricordo come l'ha fatto Ah in teoria Potremmo fare anche In questo modo Sì sì Ok vediamo un attimo Se abbiamo finito Di fare quella stone Bene Stone Brava Dove sei Eccolo qui 10 12 E 13 Benissimo Abbiamo altri 12 di questi Ohi Esci Bene Mettiamo quindi Uno qui Uno qui Benissimo Quindi qui Ci metteremo Della Della normale stone Eh Solo una cosa Voglio vedere Sì Ho della pelle Perché se ho della pelle Potrei fare dei frame Cosa abbastanza utile Perché potremmo metterla qui Per significare Che tipo di materiali c'è dentro Vediamo Vediamo Abbiamo una pelle Qui sopra niente Qui sopra nemmeno Dovrò uccidere un po' di mucca Va bene ragazzi Direi che per questo episodio è tutto Se avete altri commenti Comunque altre idee Fatemelo sapere Sì Tramite commenti E ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi